ma io ci odio a morte c'è questo piccolo particolare si 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 se potesse ammazzarci ci ammazzerebbe tutti buccio buccio vai tranquillo al massimo tanto c'è il vetro fortunatamente mizzi che sei arrabbiata chiamolo ma dai si si è arrabbiata guarda come è arrabbiata come vuoi sapere che è una femmina? perché è nervosa come una biscia quindi non puoi essere un uomo perché buccio? eh perché vorrei che prova ad attaccarci ma non l'ho fatto eh l'altro ragazzo l'ha fatto mi dice se veramente io non vorrei esserla dentro neanche se mi dessero buccio buccio bussa ma il manuel dov'è? picchia picchia no basta dai poverina basta soffi si andiamo? no guarda 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 che bella ma ti rendi conto che siamo qui a un metro che bella che è che bella che è eh un minuto dai mamma mia sei qua un metro due sì 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 ma lei ti ho detto che ci odia a morsa mamma mia a a a a a a a a a Grazie